Grande attenzione più che stato di allerta. Il comune di Salerno monitora ma non tradisce eccessiva preoccupazione sul livello di polveri sottili che ha superato il limite consentito in città in ben tre occasioni e in soli due giorni, nei primi giorni del nuovo anno. Come pubblicato dal sito dell'ARPAC, la città di Salerno ha superato il limite di emissioni PM10, le meglio conosciute polveri sottili emesse nell'aria tramite i fumi delle autovetture ma anche dalle caldaie. L'assessore all'ambiente del comune di Salerno, Angelo Caramanno, si dice relativamente tranquillo anche se non esita a ipotizzare domeniche ecologiche e blocco addirittura del traffico in città nel caso in cui il dato, i dati, dovessero essere confermati. È uno stato di attenzione sicuramente, è uno stato di attenzione perché è evidente che la ripetizione costante, non direi uniforme, ma costante di certi allarmini va comunque controllata. Per i primi giorni dell'anno, soprattutto per il primo, sarei abbastanza tranquillo perché la derivazione è strettamente eziologicamente connessa. Spettacoli pirotecchi. Sì, insomma, lì non mi preoccuperei. Per i giorni successivi dobbiamo stare un attimo attenti, anche se sono sforamenti minimi, però è evidente che al di là di quella che è la soglia massima degli sforamenti consentiti annualmente, c'è un problema che va monitorato anche in relazione al posto nel quale viene suggellata questa criticità. Ecco, e quindi dobbiamo stare attenti sicuramente. Ho già parlato con gli uffici, stiamo verificando un attimo, non il da farsi, ma quantomeno la necessità di tenere sotto controllo assiduo questo dato, perché se dovesse ripetersi è evidente che bisogna fare qualcosa. A proposito del fare qualcosa, al di là dello stato di allerto o di attenzione, avete immaginato delle domeniche ecologiche, dei provvedimenti importanti? Io sto verificando, e questo non è malcomune mezzo caudio assolutamente, che è un problema che mi pare che si stia espandendo un po' ovunque, questo problema della criticità, che delle giornate così belle paradossalmente portano a questa criticità. Potrebbe essere immaginabile una domenica ecologica? Sicuramente la più stretta e controllata applicazione di provvedimenti che già sono in essere e che interdicono la circolazione a un certo tipo di mezzi, quindi ovviamente un controllo più assiduo sotto questo punto di vista potrebbe essere funzionale ad un miglioramento della situazione. Comunque ripeto, è il caso di dire che è proprio una bigliana vista, ma non perché non siamo preparati al fatto, perché è atipica la circostanza, anche e soprattutto perché veniamo dopo un anno nel quale non abbiamo raggiunto neanche lontanamente il top degli sforamenti massimi consentiti. Ripeto, non è la... la quantità, perché lo sforamento, anche mi dicevano gli uffici, è minimo, però ovviamente bisogna stare attenti.